E' un po' di roba. Gli altri hanno il diritto di dire la loro sulla tua vita. Per favore. Non ti piace? Ascolta. Ne ho presi un po'. Questo non è dei nostri. Ah no? No. Ma scusa, non è Sancoso lì? Come si chiama? Vabbè, peccato. E cosa ci dovrei fare con questo? Il prete? No. Pensaci. Io e te insieme saremmo una coppia imbattibile, come Davide e Golia. Ho detto di no. Ok? Infermiere? Grazie. 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 Grazie.